Andrea Mezzanotto, allenatore del Forlumo, questa squadra con le carte in regola per giocarsi la salvezza diretta? Sì, assolutamente, abbiamo perso tre fulchi di centrocampo, è entrato Mario Corpo ma con due settimane di allenamento, purtroppo sto adattando delle persone. È anche vero che è una squadra neopromossa, che non ha grosse ambizioni, il loro obiettivo è quello di salvarsi. Io sono subentrato anche in corsa, quindi ho fatto un po' di fatica durante la sosta natalizia, dove non ci siamo allenati per niente. L'ho detto anche già un'altra volta, dopo le quattro vittorie consecutive, e lì si è spaldato un po' il tutto. Purtroppo la verità è che è una squadra che non è abituata a fare queste categorie, è una squadra neopromossa, che pecca un po' di inesperienza e c'è da lavorare, ovvio. C'è da lavorare molto perché non hanno attitudine a determinate partite. Se qualcuno ha visto, noi siamo stati dentro la partita, abbiamo fraseggiato, abbiamo giocato, però ti ripeto, la prima occasione che loro hanno più limpia di fare gol, noi crolliamo perché ci manca quella capacità di saper reagire. E' una cosa che uno deve avere, non la posso dare io, è una cosa che devono avere i giocatori, è qualcosa che nasce da loro. Mario Libraro del Forum è una squadra che non è sembrata venire da una serie così negativa, anzi ha mostrato anche una forza di reazione. E quindi, anche se adesso deve un po' guardarsi le spalle in classifica, perché la zona play-out rischia di essere un po' vicina. Sì, 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 noi ci dobbiamo concentrare tutti quanti, ci dobbiamo allenare bene, dobbiamo ripiegare il ritmo, perché venivamo da tre vittorie, poi quattro sconfitte, ci dobbiamo impegnare in allenamento molto e dobbiamo ritrovare la forza mentale, che per me è quella che manca, secondo me, soprattutto. In ultimo, un bilancio finora di questo camminato che comunque vi vede raggiungere l'obiettivo prefissato? Eh sì, per me siamo là, ma l'hai detto pure tu, ci dobbiamo guardare alle spalle, perché dopo quattro sconfitte dietro si sono avvicinati, quindi dobbiamo assolutamente riprenderci e cercare di far meglio.